A Grigento e alle prese con il passaggio definitivo alla raccolta differenziata. Dopo la prima fase sperimentale lanciata nel quartiere di Fontanelle prima e negli altri agglomerati periferici dopo, oggi è la volta delle frazioni balneari come San Leone, Villaggio Peruzzo, Cannatello e Maddalusa. Nei suddetti quartieri, già dallo scorso weekend, sono spariti i classici cassonetti lungo le vie e da questa mattina è cominciata la raccolta porta a porta con non pochi disagi. Infatti sono ancora molte le utenze che devono prelevare i cestelli per la raccolta differenziata. Al front office istituito al Palacongressi, il più grande in città, gli abitanti lamentano lunga attesa con coda agli sportelli. C'è chi arriva addirittura alle 4 del mattino per prendere la prenotazione, ma a causa anche la carenza di personale addetto alla distribuzione dei contenitori, si rischia di rimanere anche oltre 5 ore in fila con una media di 10 utenze servite in un'ora. Una situazione difficile, aggravata ancora di più dalle condizioni della città questa mattina al risveglio. Nei quartieri sopracitati, la gente ancora sprovvista dei contenitori per la differenziata, ha conferito la spazzatura dove prima vi erano i cassonetti, con un colpo d'occhio non di certo entusiasmante. Da un lato dunque la carente organizzazione del servizio e la scarsa informazione che, a detta dei cittadini, il Comune ha fornito. Dall'altra, ed è bene sottolinearlo, le resistenze e l'inciviltà di chi, in barba ad ogni regolamento in tal senso, conferisce immondizia in ogni dove. In ogni caso comincia una nuova era nella raccolta dei rifiuti ad agrigento, e come in ogni cambiamento bisognerà metabolizzare con coscienza tutte le novità a cui oggi i cittadini devono far fronte.